Edizione speciale di Acqua e Sapone News! Sono emozionatissima! Eh, faccio questo effetto. Te piacerebbe? Sono così emozionata perché l'inviato di oggi è Filippo Magnini! Grazie Valentina! La nuova carta igienica Scottex Pulito Completo con Trama 3D è in offerta ad un prezzo eccezionale per un pulito imbattibile e regala un piccolo gesto d'amore a tutta la famiglia con i fazzoletti Scottex Tutti Giorni. Sono in promozione, morbidezza e assorbenza insuperabili. Insuperabili come te, Filippo! Gne, gne, gne. La linea per capelli Garnier Ultra Dolce in promozione, vero Filippo? Sicuro! L'efficacia degli ingredienti naturali della gamma Ultra Dolce è incredibile. Shampoo e balsamo sono a 1,69 euro ciascuno. E per un look infallibile provate il fondotinta Unfaible e il correttore Mord & Concealer di L'Oreal Paris. Li trovate insieme ad un prezzo pazzesco! Filippo, per lui mi scriverai in piscina. Quando riapriranno? Nel frattempo mi tuffo nelle offerte di Acqua e Sapone. Aspia un fi? Eh? Acqua e sapone, oltre la convenienza. Grazie a tutti!